Il 29 ottobre 1754 Daphnis e Alcimaduro è giugata alla cur del rei Luis XV che gli incontra un successo grande. Pamen, questo opera, che è rebello l'ingegno del compositù Giuseppe Cassanea di Mondo un Vilo, è Saudacius. L'obra è, in effetti, compa usato tutto in un città. L'opera conta l'istoria da Muma Luruso del pastù Daphnis e della bella Alcimaduro. Aquello è scuro cantato in lingua d'uscia, scuro in gascù o in provenzale, secondo il dialetto d'origine dei primi interpreti. L'opera posa Tabet in un repertorio musical del paese natale del Mondo un Vilo. Lo compositù, nascut in Arbuno, lo rei bendico d'Alius come un pastoral o lingue d'usciano. Successo alla cur del franzo, pei e provincio, l'audacius opera s'illustra Tabet in la querelle di Buffon. Entre 1752 e 1754, «Los defensus de l'opera d'inspiration francesa sopauson a l'us de l'opera italiana. Mondo un Vilo adopto l'ubeggiare des franceses. Esa che là, Daphnis e Alcimaduro estaba salutati pels tenens dell'Italia. Per elles, l'usciità è mai adaptata alla mezza musica che l'u francese. «Los defensus de l'opera italiana»